ci sono un sacco di modi di suonare il do maggiore e il do maggiore con una settima ancora più modi io quello che preferisco fare è approcciare una materia come questa quella dell'armonia da un punto di vista degli stili cioè si può fare uno studio astratto del tutti i do maggiori che posso fare con tabelle schemi libri manuali complesso che è però un lavoro molto mentale basato sulla quantità di informazioni e su come cavolo mettersele in testa e non dimenticarsene non è il modo migliore secondo me modo migliore è imparare la musica quindi che sia l'armonia la teoria il ritmo tutte le suddivisioni ritmiche poliritmiche le scale gli arpeggi qualsiasi argomento impararlo relazionandolo agli stili musicali e qua viene un problema che ha la maggior parte dei chitarristi che suonano solo uno stile è tipico sentire qualcuno che dice io sono chitarrista sono la chitarra dopo due minuti di chiacchierata si capisce che magari questa persona suona solo rock caspita conoscerà gli accordi le scale e il linguaggio di un chitarrista rock della musica rock che è una piccolissima percentuale di tutto quello che può fare la chitarra ma anche della musica pari con un altro che fa classica conoscerà benissimo alcune cose e malissimo altre pari con chi fa jazz è lo stesso discorso questo perché studiare solo uno stile ti porta ad approfondire anche molto bene solamente alcuni aspetti ogni stile ha il suo forte la classica lavora molto sul timbro sulla lettura sull'interpretazione ma neanche un po sull'improvvisazione per esempio o su conoscere veramente scale accordi il jazz lavora tantissimo sull'improvvisazione una creatività quindi di tipo istantaneo no e sulla sull'armonia sulle scale ma non lavora molto sul sul suono sull'acustico sulla dimensione acustica quindi sul colore sulla variazione di timbri poi c'è il rock che lavora un sacco su una magari su una istintualità su una capacità anche lì di improvvisare ma anche di comporre spesso scrivere qualche riff introduzione però non lavori su altre cose insomma potrei andare avanti delle ore ok parliamo dell'accordo di do e ne parliamo in un ambito bossa nova cioè la bossa nova può aiutarci molto a imparare un sacco di accordi nuovi perché li usa in un certo in una certa forma è un certo modo sul manico che è molto intuitivo molto facile da ricordare e poi lo puoi applicare anche sul jazz sul pop su altri generi sul flamenco allora do l'accordo di do partiamo dalla base base un accordo di base può essere chiamato anche triade cioè tre note suonate insieme contemporaneamente nel caso del do le tre note sono do mi e sol perché l'accordo è formato da tre note prima terza e quinta la prima è il do la terza è il mi infatti se contiamo dal do abbiamo do re mi sono tre note una terza e l'altra nota il sol do re mi fa sol la quinta nota un accordo quindi è formato da prima terza e quinta queste tre note a parte la prima che dà il nome all'accordo quindi non la cambiamo la prima resta do ma il mi e il sol possono cambiare possono diventare bemolle possono diventare diesis può diventare uno bemolle l'altro restare uguale uno diesis l'altro bemolle ci sono tutte le variabili possibili ce ne sono un tot non le mai contate magari a fine video le scopriamo quante sono allora quindi analizziamo un attimino la triade per capire abbiamo quattro tipi diversi di do di accordo di do il primo è l'accordo di do maggiore formato da do mi sol abbiamo il do che dà il nome all'accordo do abbiamo il mi che è una terza detta maggiore e il sol che è una quinta che è detta giusta do mi sol insieme creano un accordo che si chiama all'anagrafe do maggiore se spostiamo il mi in giù di un semitono indietro di un tasto avremo il do minore do mi bemolle la terza nota che è una terza minore proprio perché minore rispetto all'altra tra il do e il mi bemolle c'è un tono e mezzo tra il do e il mi ci sono due toni la terza è minore perché è di minor grandezza rispetto all'altra e la quinta resta giusta sol il do minore lo possiamo fare in vari modi facciamolo in terza posizione qua così se ci fai caso il do maggiore è così con il mignolo qua al quinto tasto della seconda corda sto premendo la terza maggiore il mi se vado indietro di uno non posso col mignolo sarebbe scomodo allora devo cambiare però sono andato dal quinto al quarto tasto diventa mi bemolle altri due tipi di triade di accordo di tre noti di do sono un po meno usuali o meglio si nominano meno ma sono fondamentali abbiamo un'altra variante che do mi bemolle come la terza minore sol bemolle quindi scende il mi scende il sol cosa succede abbiamo una terza che è minore e una quinta che si chiama diminuita infatti questo accordo si chiama do diminuito in terza posizione lo facciamo così come lo otteniamo dal do minore dobbiamo spostare indietro anche di uno la quinta che la facciamo con l'anulare in questo caso quinto tasto quarta corda va indietro di uno siccome siamo scomodi invertiamo queste due dita è molto dissonante sembra brutto sembra sbagliato ma in realtà è un accordo diminuito si usa in momenti nelle canzoni in cui c'è maggiore tensione si crea una tensione di note che poi verrà distesa con un accordo che segue che invece giustifica questo momento di dissonanza ultimo accordo ancora meno frequente molto importante soprattutto quando si arriva a improvvisare o a gestire degli arpeggi più complessi ma anche a fare delle progressioni bossa nuova è l'accordo con la quinta aumentata eccedente si chiama anche cosa vuol dire vuol dire che è un accordo maggiore do mi normale terza maggiore sol diesis partiamo ancora dall'accordo in terza posizione dal do maggiore stavolta abbiamo il mi col mignolo quinto tasto seconda corda con l'anulare stiamo facendo un altro do quindi con indice anulare facciamo i due do non li muoviamo il medio lo dobbiamo alzare di un semitono il medio fa il sol fa la quinta deve diventare sol diesis quindi andare oltre di un tasto deve andare qui al sesto tasto siccome non riusciamo cambiamo e abbiamo questo assurdo accordo anche questo è particolare è un po' dissonante lo puoi fare anche in prima posizione così quando fai un do maggiore normale l'indice lo mandi su di una corda e ti fa da sol a sol diesis però è più brutto così questi sono i quattro accordi che vengono spiegati sui manuali i tipici quattro accordi ne abbiamo uno che viene sempre tralasciato non so perché che è praticamente un accordo dove abbiamo do abbiamo mi terza maggiore e il sol bemolle è un misto tra questi ultimi due abbiamo una terza maggiore ma una quinta che abbassata diminuita molto semplice da fare con le dita perché abbiamo il do maggiore qua in terza posizione la quinta cioè il sol che suoniamo con il medio quinto tasto quarta corda deve andare indietro di uno da sol deve diventare sol bemolle eccolo qua in realtà sono accordi che da soli presi così destabilizzano un po ma se tu li metti in un contesto ad esempio senti che ci sta tu vuoi stare sul do e muovere quella nota è molto bello anche il diminuito di prima se lo alterniamo al minore molto bello quindi il senso di un accordo lo fa il contesto mai l'accordo da solo ora volevo parlare anche delle quadriadi cioè gli accordi di settima ma secondo me il video diventa un po troppo lungo e pesante e nessuno lo guarda quindi farò un prossimo video in cui estendo il concetto alle settime se anche tu sei stanco dei soliti quattro accordi di suonare solo le canzoni di battisti di beatles o di sanremo pensi che ci sia un mondo da esplorare di generi come la bossa nova il flamenco la musica africana araba lo swing e tanti altri generi ho preparato un corso dove spiego il ritmo più importante ritmo fondamentale da sapere che generalmente nessuno spiega da suonare con le dita senza plettro può essere imparato in meno di mezz'ora ho fatto una lezione gratuita la puoi scaricare in un link qua sotto che trovi nella descrizione questo ritmo ti apre le porte a tutti gli altri generi dopo ok quindi ti consiglio di impararlo approfittane è una lezione gratuita non so quanto tempo ancora la lascerò quindi clicca sotto e prendila se quello che io ti dico ti risuona altrimenti ci vediamo in giro in strada ciao